Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 18 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla variante di Valico in direzione Bologna traffico bloccato e un chilometro di coda per un veicolo in fiamme segnalato tra Firenzuola e Badia. Sulla A12 tra Versili e Massa per lavori un chilometro di coda in direzione Genova. Sulla Fibili rallentamenti per lavori tra San Mignato ed Empoli in direzione Firenze. E per traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci ancora in direzione Firenze. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.